e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di modern warfare 2 qua siamo a niente russo ovviamente come prima il resto della task force 141 ha introdotto la gs comunque ragazzi credo che l'altro video vi è piaciuto per sbagliare comunque vabbè ve lo riassumo io esattamente il soldato allen è stato scelto come me amici di makarov che è il russo so che dobbiamo uccidere ovviamente spero che ci siamo leati con noi per una missione così da fare qualcosa con lui e vabbè ragazzi siamo a mosca in russia in un porto che ci dobbiamo fare un po' ricordate niente russo io ciao makarov non vado a deciderti questo episodio aia 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 makarov il go in tupè si raga perché io avevo visto una canzone makarov fisco in tupè che bello certo però più lenti di cosi ma per me può uscire allora makarov però penso di lasciare un po' no 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 врем no 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 faremo la storia a 130 abbiamo andato la manetta che capito ma che capito e sta pistola quanta storia finchè oh che sfida davvero sfida fai un miscione odio che facciamo breccia in un aeroporto che bello guarda amico ma io che aperti lei allora tu dici alzate le mani siamo russi cioè non io sono americano wow ma che bella la tutta la cattiva vuoi pro no no pro bravo ti ho fatto vedere no ma che se non si parte la città non si deve andare pur che tanto io non purgo posso sto lentissimo e dai e dai no ma non però insomma i russi eh grattati le palle posso andare eh giù e passi vieni qua posso correre posso correre ma no ma ma quanto ninja che fa la corsa guarda 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 no no bro bro ti ho visto prima non puoi morire dai che ce la fai dai che ce la fai e non ce la fai ti ho fatto ti devi voli no minchia l'unità di russia è pazzesca perfetto eh mah io no invece l'ho spettato da bo non non mi ricordo quando era l'ultimo video da questa parte andiamo cioè quindi noi non c'è quello che sarebbe non c'è quello la polizia russa con anche le luci di gravità tutte le mani in alto ma omogeneo per zag FBI open up prenda peter culo io perici n c io collo scurro che un gatto hanno pure sopra i negri Aia, aia, aia Non ce l'hai, non ci vedo Saci vostro Eh, io sono un lancio a granate Degno di un re, eh Non mi chiede niente Pronti 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 Ma non basta Sì, non basta Vabbè Vado, vado, vado 30 secondi, andiamo In movimento Non si, caro Vai, ci sono ieri Da questa parte, andiamo Vai, ma Ma, caro Uh Facciamo esplodere, via, via Ma, caro Non spalate Ma no No, ma cosa Ma No, raga Cioè, io questa scena qua Però il bello è che me la ricordavo Tipo in animazione Cioè What? Cioè, perché tipo C'era un'animazione Sali a bordo C'era Macaroff Che mi prendeva per mano E mi accoltella E mi dava una pistola Invece no Ha fatto direttamente così No Non ci credo Allen Eh, vabbè Allen è morto Come tutti Ma non si sente niente Macaroff Macaroff era sempre un passo avanti Ora ha lasciato migliaia di cadaveri ai piedi di un americano Solo noi sappiamo che è stato Macaroff La nostra credibilità è morta con Allen Sarvano prove Non fatevi ingannare Cioè, perché raga Avete visto che poi era con la mano Poi sul tiro prende Invece no Non doveva essere così Mai sentito nominare, signore Ovvero Alex il Rosso Ha finanziato l'assalto Un proiettile per scatenare la furia di un'intera nazione Il che significa È il nostro biglietto per Macaroff No, però mi dispiace per Allen, no? Perché, tipo Certi muoiono E poi Al prossimo gioco Proprio Se ne fregano Ricevuto? Nessuna traccia del braccio destro Negativo Sono fermati già due volte Salve, voglio io la bici Addia a me Eh, è utilitaria Di un po' le dc2a Milizioni, arrezioni positive Dunque siano quei tizi Minza Minza Oh, cazzo Eh, cazzo Eh, cazzo Eh, cazzo Ah, scappando Andiamo, andiamo Eh, cazzo Ah, no Ah, ma cazzo What? Ricevuto, sto andando Eh, vatevi Dalle palle Oh, ma cazzo 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 Oh, ma cazzo 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 Oh, un po' fa 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 Sparacuola Sparacuola Non è araba che mi finanzia Ah, c'è Gosto Ciao, Gosto Ciao, Gosto Benvenuti nella partita Tu sei il mio preferito Lo spara Lo spara Lo strati al dato Robi Scusi Cosi 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 Cosmi Cosi Cosi Oddio che cazzo! Sì la madonna! Ma non mi manco! Royce! A rapporto! Passo! Royce! A rapporto! Passo! Cos'ha tu? Ho ore 5! Si! Royce! Vai Royce! Vai! Ah! Mi hanno colpito! Ripeto! Mi hanno sparato! Mi hanno sparato! Siamo su Youtube Italia Per risultare una mezza Non posso sparare Mit a terra! Mit a terra! Mit! E va beh! Autolesionismo! Non vedo nessuno io! No! Non me muoio! Ah! Non me muoio! Ah! carnet che guardano dai rocce l'hanno colpito la donna raga sto mettendo a cagare guarda aaaaaaah minchia che devo fare? oh no no ah ai help si ma non è Ehi, il Coviti Ehi, il Coviti Ehi, il Coviti Ehi, il Coviti Carne la mangiare Ok Ok Ma che cazzo sa? Ma che sono quelli? Ma sono quelli là tipo Boh Ma sono tipo quelli là Sono quei Cooper là che salgono sui jetty Fanno tipo speedy man Speedy man C'è qualcuno che non fa un touch Ok, tipo quelli Maia Basta Basta vi ho detto Ora vi sparo io le granate però Voglio vederci fare un gameplay Antonio 40 euro di gioco Ehi, vabbè Ehi, signori Io sono Ensu Prendo in faccia le granate Raga, ora ho provato in alcuna Dai il tir Mori 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 Ma io t'ho detto mori Sto sparando a caso si impara Tu sei qua? Da dove? Occhio per occhio E il mondo diventa gioco What? Oh Mi hanno colpito Ah Royals a terra Royals a terra Vabbè io sono a terra ma però eh 5 secondi però Ma dai forse madonna mia I civili I civili Sono Quando? C'è un milanista Che fa l'interista Oh Ecco qua Ma Ecco Ecco perché Magari Attenzione civili Eh Civili Sono delle persone Bellissime Però quando rompono i coglioni Li rompono E mi stanno facendo alterare Eh vabbè Dov'è che stanno? Se persone vabbè costrui Dov'è che stanno? No Mi hanno colpito Aaaaah Che poi tipo allen 5 secondi 5 secondi 5 secondi 5 secondi Tipo allen Un colpo gli hanno dato Ed è morto Quando brosse in game 10 colpi e non mori No Mi hanno colpito Aaaaah Madonna Madonna Aaaaah Senti Io ora ci vado Di pompa Guarda Cattiva che C'è dove dov'è? Aaaaah Eccoli Ma è bastard Dun Ecco sto che Aaaaah 5 secondi Allora Senti ragazzi Siamo qua da 2 ore Qua sono soltanto per carne piccina Senti ragazzi Senti ragazzi Senti ragazzi Minchia Minchia Aaaaah Guarda Ehm Non c'è il cane Ehm Non c'è il cane Non c'è il cane Cane Cancamino 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 Ci stanno gli RPG Ma che cazzo Ehm Ehm Oh c'è un cane C'è un cane C'è la madonna È vero però Roche Guardalo RPK Via 5 secondi però Questo è il loro territorio Lo conoscono bene Ma attenzione agli agguati Guardati bene intorno Ehm Madonna Ti vorrò questo No Ti vorrò quello Ero Ci dove Guardate se muoio Guarda RPG Magari Guarda quanti capi Della milizia Madonna Oh Un gatto Non c'è un gatto Sta scappando in diretto verso di te Ah! Sono caduto Eh vabbè 5 secondi Madonna Guardati bene Ho ancora qua sto Minchia che palle Anche qua tutta la rana Vabbè Che figlio Che figlio Se la siamo vista brutta con gli RF Guarda lì Quattro minchia Guarda qua Guarda qua Guarda che è più siamo sottotiro ma riesco ancora a seguire Rojas Entrate in un edificio no�� C'è una borsa Va 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 Lavo Madonna quanta gente Raga ma c'è la concentrazione assolta Davvero Raga madonna Vabbè C'è la siamo vista brutta con gli RPG e le mitragliatrici piazzate lassù Ci stanno quasi i tetti Ci stanno i cecchini Ci stanno i controlli che è Coca-Cola Raga mi sono un po' zitto Raga mi sono un po' zitto Raga mi sono un po' zitto Raga madonna si sta messendo gli stasfinerpi No non lo vedo perché mi sto ammazzando Che caccio mi lo lasceremo Che caccio mi lo lasceremo No 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 Che caccio ha dovuto fare vieni noi vieni noi vieni rocas è ancora diretto verso il tuo lato della favela caga progo vieni siamo sotto tiro ma riesco ancora a seguire rocas entrate in un edificio no lo vendi ricevuto si sta arrampicando sopra un tetto accostè una bossa la bossa dovrebbe rallentarlo faremo in modo che non torni indietro tu va avanti e intercettano vai no raga madonna raga no ma mi sta succedendo se ne si rocch siamo sotto tiro ma riesco ancora a seguire rocas entrate in un edificio no lo vendi raga 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 la bossa dovrebbe rallentarlo rocch faremo in modo che non torni indietro tu va avanti e intercettano va guarda che rinculo poi che hanno le armi no ma che cazzo no ma che cazzo non fermato no ma che a tienne raga noti Raga No Non potete capire Ma al ctopo no Visto che me ne sono andati ora C'era un po' prosto L'ho preso per mamma Non bloccarlo sulla destra Non avrà altra aspetta se non andare verso ovest Sono sotto giro Non credo di riuscire a seguirli attraverso il mercato Devo trovare un'altra soluzione Sì è un problema brava Ecco Oh calma Eh 5 secondi Per favore gioco Oh io Non credo di riuscire a seguirli attraverso il mercato Devo trovare un'altra soluzione Rocio ha individuato Roca Sta scappando e diretto verso di te Sì Eh a me mi servirebbe vabbè Porco diiii Ah Dai però Raga Per favore Cioè Lo so Non credo di riuscire a seguirli attraverso il mercato Cioè Non credo di riuscire a seguirli attraverso il mercato Cioè Non credo di riuscire a seguirli attraverso il mercato È impossibile Non credo di riuscire a seguirli attraverso il mercato Raga Minchia Io concludo Qua per oggi Spero che questo video vi sia piaciuto Da X1 Se sono da me è tutto Ci ho messo d'ora per fare questa missione Ciao Ciao